A questo nuovo appuntamento del venerdì dedicato all'Iveco Turbo Star. Quest'oggi andremo ad andare avanti con il tour delle capitali europee. Oggi partiremo da San Pietroburgo per poi arrivare a Tallinn e infine si arriva a Riga. Ovviamente il mezzo protagonista della nostra avventura è il mitico e grande Turbo Star. E rieccoci anche in video. Bene, allora a questo punto io direi di partire subito con il primo carico. Allora intanto preparo un po' il sottofondo musicale. Così da avere anche un po' di compagnia. Fabrizio D'Avuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti e buona live. Un po' di pazienza e si parte come al solito. Belli carichi e pimpanti. Pronti per fare quest'altra esperienza con... 1RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, grazie mille e benvenuti. Grazie come sempre. Allora, un attimo solo. Ancora qualche minuto di pazienza. E poi partiamo. All'arrembaggio. Fabrizio D'Av2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille e benvenuti a tutti. Benvenuti, thank you, thank you. Grazie mille. A breve. Partiamo. Fabrizio D'Av1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Sempre precisi e puntuali. Allora. Musica, musica, musica. Allora. Vediamo un po'. Ovviamente la musica, questa qui, poi viene dalla... 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti a tutti. E direi... 3, 2, 1... Andiamo. 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 Eccola detta anche la navigatrice di Borg. Top. Ralf Garage. Un nome, una garanzia. Nel nostro ultimo viaggio, nella settimana scorsa, siamo riusciti a portare la missione a termine con un po' di ritardo. Fabrizio D'Av2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti a tutti. Thank you, thank you. Dicevo, per gli amici che si fossero persi l'altra live o che non hanno visto il video sul canale YouTube, il nostro ultimo viaggio è stato quello in cui abbiamo trasportato dei grossi trasformatori. il danno è stato pari a zero. Ma abbiamo fatto abbiamo portato un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. Quindi quest'oggi cercheremo come sempre di fare danno zero e di consegnare il carico al nostro cliente che prepararsi a voltare a sinistra quando vedrà arrivare il suo carico intatto e lo vedrà anche essere trainato dal medico turbostar allora dirà chapeau tanto di cappello. andrea 80 biella ha effettuato un ride uno raiders entrati nello stream benvenuti uè dottorissimo grazie per il ride per l'hosting eccetera eccetera eccoci qua sei sempre presente meno male allora vediamo un po' io direi di prendere il cron questi due sono uguali sì prendiamo il primo oggi facciamo un trasporto di materiale speciale portiamo in giro un po' di potassio che di questi tempi e con questo caldo fa bene allora dovrebbe essere eccolo qua qui dietro ride ride grazie mille a tutti è sempre un grandissimo piacere sapere che ci siete perfetto adesso ritorniamo a fare un po' di soft speaking e andiamo avanti con la nostra missione siamo tutti carichi e pimpani a prestare a destra ciao grazie a tutti stavo di bene mappe come suona prepararsi a voltare a destra e se suona e se suona voltare a destra e diciamo veloce devo fare ancora un'altra trasferta qua c'è ancora un altro carico da prendere infatti c'è scritto su nel nel link in descrizione la la missione di oggi e in pratica con il turbo star sto collegando le varie capitali europee e quest'oggi parto da san pietroburgo scarico a tallin ricarico a tallin e poi scarico a riga quindi vi faccio un po' un giro si va a giro come si dice nella meravigliosa lingua toscana si va a giro con questa con questo grande mezzo che l'iveco turbo star è una mod di ralph garage io ho acquistato una mod del motore con scarico e tutto quanto e l'ho pagata circa 5 euro sono della provincia di napoli talebano due chilometri al nord di napoli tu invece di dove sei sempre se si può sapere come sempre senza entrare nello specifico diciamo così la provincia ecco capoluogo di provincia città più vicino a te fammi rallentare altrimenti qua mi fanno ahhh corvito umbria giriamo a sinistra ahhh beh talebano devi sapere che io per 50% il mio DNA è umbro oh che fa circolazione che fa rispendi a quell'notte e ti dicevo per il mio DNA 50% umbro e 50% partenopeo perché mia nonna paterna è nata a valtopina e poi invece i miei nonni materni insieme a mio nonno paterno erano tutti quanti della provincia di napoli e quindi un po' del mio DNA è umbro Andrea grazie mille grazie per l'imbocca al lupo poi ci ci becchiamo nella tua mitica live tu a che ora è che vai in live se stasera stream giusto se non ricordo male e porto tre route Io guido l'applicare oltre il road rabbiage. Oh, un po' di... un po' di soli qua. Ammappa. Da qua mi distraggo un po'. Caspiterina. Certo che... Io dicevo che la Spagna aveva i autovelox molto attivi ma nemmeno la mappa rossa qui scherza. Le ho beccate già tre di multe. No, mi devo girare. Ai ai ai, mi sono distratto. Scusate. Mamma mia, me ne sono accorta appena in tempo. Continuiamo. Questa mi sa che è una macchina con l'autovelox. Probabile. Ah, siamo a confine. L'ultima volta che sono entrato nel... Qui nel confine russo alla Dogana. Gli agenti si sono fermati a... Stupiti a guardare il Turbo Star. E diciamolo pure che è un mezzo che ha fatto la storia del trasporto su gomma. Un prodotto made in Italy. Intanto... Alla salute. Non c'è nessuno. Ok. E noi facciamo sentire un po'. Delle trombe... Vecchia scuola. Dov'è il checkpoint? Ah, questa è la linea di confine. Ma... Ah, dovrebbe essere più avanti là. Credo. Ah... Non c'è. Il punto di controllo per il momento. Ah, eccolo qua, perfetto. Sulla mappa non lo segnalava. Ah, eccolo. Ah, eccolo. Ah, eccolo. so I said that last time I came in Russia agent on on the border they say that Turbostar is an amazing truck it's a very cool truck but it's so strong one the car behind looks like a very old Alfa Romeo Arna build it in the late 18th and the first part of a 90 Ma per via dell'affaticamento del tuo autista del personaggio se insomma se praticamente il re del ribaltation che non è ribaltabile Io mi sono ribaltato ma volutamente un paio di volte nelle zone dell'Inghilterra Ah ti rilassa anche a me rilassa io per esempio mi sono ribaltato un paio di volte ma volutamente per creare le mie pic fail da inserire in alcuni video che pubblico su youtube questo qui andrà sarà disponibile la giovedì su youtube sul mio canale youtube e praticamente mi sono divertito a appunto a ribaltarmi su un fianco in inghilterra con alcuni con alcuni mezzi soprattutto era veramente facilissimo in pratica per potersi ribaltare in maniera rapida e anche simpatica bisognava andare oltre la riga destra la striscia bianca che delimita la corsia quando si esce se vai se ti metti quasi a metà con il mezzo oltre la riga ti ribalti facilmente e lì un sacco di è piaciuto questa questa sorta di appoggio lento perché si inclina poi per un attimo rimane sospeso e poi si ribalta sai ho visto un video su youtube un altro streamer maestro un altro partenopeo amico come me e in una live ho visto che si addormentava a volante ma credo che sia che fosse una gag insomma però è simpatico infatti mi ha fatto scompisciare dal ridere però si sicuramente è un gioco che eurotrack è un gioco che rilassa che poi diciamo che ad addormentarsi beh non mi è mai capitato però può capitare che sia così rilassante da indurre in qualche modo a a farsi abbracciare da morfeo ma 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 Poliziai. Ja, poliziai. 1, 2, poliziai. 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7,5, 6, 7,5, 6. Kun da. Quando kun... quanto kun da essere attenti. Quindi... posso... E questo è il saluto. E andiamo a 110. Lanciamo un po' questa bestia. Di Eurostale. Farming... Vabbè diciamo che con farming tu più o meno sei... abbastanza in attività. Eurotrack... dipende da... come uno... imposta... diciamo così... il gioco. Nel senso che... se ti poni di guidare... più o meno in maniera reale... allora... soprattutto in single player... ti dà filo da torcere. Però se invece uno lo fa... come dire... in maniera... così... rilassata... per divertirsi... allora ci sta... che uno magari dopo un po'... ehm... preferisca... qualcosa di un... un po' più movimentato. degustibus... tenersi a destra... e poi... uscire a destra... ok... uscire a destra... uscire a destra... e... i porto Trerot... io qui... non la piccherà. Ho Trerot Rappac... ma... a hardu...! ...Prepararsi... a voltare a sinistra... Voltare a sinistra... Appena potrò, poi... ritornerò... di nuovo... In Umbria, a Foligno, devo andare ad assistere alla Quintana perché sono ma tanti e tanti tanti anni a cui sono passati tanti anni dall'ultima volta in cui sono stato a Foligno a vedere la Quintana. Voltare a sinistra. Il foglio di viaggio non serve a un gabbiotto qua. Pare di no. Finalmente siamo arrivati. E meno male. Allora. Ma sì. Nulla è impossibile al Turbo Star. Turbo Star è sempre con te. Diceva così quello spot. Ma forse no. 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 Ecco qua. Primo carico è andato alla salute. 13.000 non sono pochi poi ammannanzi continuiamo continuiamo tali allora vediamo un po Riga, eccolo qua Grazie talebano Grazie per essere passato in live Quando vuoi E' sempre un piacere ricevere anche i saluti Prima di tutto Quindi quando vuoi Bus E ti offro un viaggetto qua A bordo del Turbo Star Grazie ancora per essere passato Stasera anche tu Se non ricordo male Vai in live, giusto? Grazie ancora comunque per essere passato in live Ah ok Mi raccomando eh Con i trattori I ribaltisciano la costa Scherzi a parte Ci becchiamo più tardi Ah è vero Tu l'hai detto Fai una cosa Digli che Zio Dab Viene A guardare la live Vuol darsi che Si mette Si mette a fare il browser E lì pure è semplice Cioè è facile Ribaltarsi Speriamo di no Dai Anche perché Devo guardarmi questa live Altrimenti E non va bene Grazie ancora Per avermi fatto compagnia E qua devo continuare Grazie per la compagnia Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Ciao Allora adesso Devo fare Il rabocco al mezzo Prima che Il gasolio finisca Ora devo Per farmi Ha Riffuel La traccia La traccia Prepararsi A voltare a destra Prepararsi A voltare a destra Prima Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Ripando a destra. Tricwire e tenis semplice. Continuerá-la-la-la. Descrever-la. Sabe a destra. Mtr. Questa è un'impresa, non è sempre. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Oh mamma mia, ma questi stanno sul circuito di Formula 1 che corrono tra SNS in croce o arte? Mi! Sono il conte Dracula! Beh, Rosso! Non è un'impresa, non è un'impresa. Non è un'impresa, non è un'impresa. Un treno. Ah, ecco. Quel tintinnare mi ha fatto ricordare di quanti treni nella mappa Iberia, nella Spagna, in Spagna si sentivano passare. Anche in autostrada, all'improvviso sentivo uscire adesso, sentivo i treni passare. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Quando ero in Iberia DLC map, in Spagna, ho sentito... molto più piccolo... molto più piccolo... molto più piccolo... ehm... il treno... passare... e ringare la bellissima... ehm... ho sentito il tintinnare... il tintinnio delle campanelle... nel treno... aiaiai... facciamolo passare... facciamolo passare... aiaiai... 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 appena in te... mi ha fatto stare freddo... ecco ora... in tempo... ripltere il piede. Ho... ho usato la 들fuga sulطale, troppo breve voltare... per eliminare l'accident... Lagri, lagri, all'alba vincerò, 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 vincerò. E porto tre route, io guido l'apecar, c'è un concessionario, o tre route rapiaggio, non importa, troverò un nuovo percorso. Per scuotare questa piccola parte della map, prima di andare. Questa è andata. Questa è andata. Questa è andata. C'è un compagno di caratteristico. Questa è andata. 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 Riorientamento. Questa è andata. Questa è andata. nanana nanana in the farm nanana 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 bluia nanana banana make no song banana make no song prepararsi a voltare a destra ma non è quella che ah Scania tu Scania oh yeah a proposito qua io rischio di rimanere a piedi prepararsi a voltare a destra voltare a destra if I do not refuel a truck I will stay stuck in the middle of the street in the middle of the road a destra I tried her three wheels a 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 decisamente meglio ciao Gennarino alla prossima Gennarino is a a typical name Neapolitan name from San Gennaro like Ciro and 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 so on alla rotatoria prendere la seconda uscita uscire adesso Vini 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 con me vini vini con me e o ad la vini Adela, 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 viene presa a me, eh oh, show me, show me the way, oh, show me, show me the way, eh oh, Adela, 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 boom, 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 andamento lento. The title of this song is Andamento Lento by Tullio D'Episcopo. He's a very great Neapolitan drummer. No. Ho fregato appena in tempo. I used the brake right in time, in the, in the right time. I just pulled, pulled a little, the truck behind me. I have been very, very lucky. Sono stato molto fortunato perché ho dato il colpetto di freno appena in tempo. Infatti mi sono appena appena appoggiato, l'ho appena appena spinto. Mamma ragazzi, questa è epica. Epic fail. Prepararsi a voltare a sinistra. Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come un pezzo che una vita che non c'è, come un ago nelle vie, una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via. E non mi passa mai. E non mi passa mai. E non guarisce mai. E non mi passa mai. E non mi passa mai. Andai Rio. Rio. Bella Rio. Un grande turbostar. Qui dobbiamo prestare molta attenzione. Where to, to have a, made to be very, Very, very careful. On this road. Because there are a lot of speed meters. Ci sono molti autovelox. Su queste dratti di strada. Su questi dratti di strada. Andai Rio. Poliziai. Poliziai. Anda the time Pohiro. The very connected of our Urbanция. They will pay. But the Space object is advantages of this planet. If you are very concentrated You will not pay. di Riga 300km 300km da Riga Riga e ora finalmente la mia canzone preferita Gigi questa è una delle mie canzoni favori nella playlist Gigi come scrivi bene buon lavoro Golf Golf Gigi 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 Lewis Lewis Gino Gigino Saluto mio zio Gigino e mio zio Gino e tutti coloro che si chiamano Luigi Gigino Luigi chiamano chiamano Luigi chiamano chiamano che si chiamano Luisa eccetera eccetera Ok On the bridge we say Chigi Ready, Gigi bello questo laghetto, very nice this lake, this is not a lake, this is a river, questo è un fiume rolling, rolling, rolling on a river, rolling, 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 rolling on a river the title of this song is Proud Mary, il titolo della canzone è Proud Mary the Credence Water Revival, by Credence Water Revival Autovelox Eccolo qua, here there is the autovelox I used the brake in the right time, I used the brake in the right time, I used the brake the speed limit is 70 km per hour, andiamo a 70 km per hour because we respect the road code, il codice della strada, as we see in Italian to Arizona Eccolo qua a alla rotatoria prendere la prima uscita uscire adesso it's night time now uscire adesso uscire adesso yeah all right beautiful beautiful Oh no, sta regalando e regalando di nuovo. Sta strezzichando. Sta piovicinando. Da notare anche tra l'altro il riflesso della strada bagnata. I can see the road wet by the rain. Very good job. Tenersi a sinistra. This is so real. So realistic. E' molto realistica questa sfumatura nell'asfalto. Tenersi a sinistra. E noi ci teniamo a sinistra. Noi, 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 noi. Oh yeah. A me mi piaccio blues. I love blues. Do you love blues? Yeah. Ti piace il blues? A me assai assai. Tanto tanto. So so much. Oh yeah. No. No. Ok. Ego scout the other. Quasi quasi vado all'as. I go to the airport. I go to the airport. Local airport. Riga airport. I go scout this part of the map. Little map. Or mapina. So I go. I go. I take a shot. Riga. Un po' di saturazione. A little bit of saturation. Sto ricalcolando il percorso. Gli dosta. Appena possibile. Invertire il senso di marcia. Ok. Cerchiamo un nuovo percorso. Riorientamento. Si prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Sto cercando un nuovo percorso. Riorientamento. Si prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Riga. 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 Polis. Voltare a sinistra. Polis. Voltare a sinistra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Tenerse a sinistra. Tenerse a sinistra. Noi. Ti piace il blues? Tendenci a piacere il blues? musica, oh yeah, do you love it, do you love it, te piace, te piace plus, do you love plus, yeah, yeah. And this is rock and roll. Oh, 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 oh Tico, 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 tico. Tico, 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 t Ci dovremmo essere. Sono quasi arrivato. Mi sono dovuto... Radio per cercare... per cercare... ения. Al momento... Io toco per... La destra! La cerchita! Oh, yeah, Reach to Gold. Reach, 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 reach. Ticca, ticca, ticca. Andare dritto. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. FINE DEL VIAGGIO Ricordo che l'appuntamento dedicato al Turbo Star è tutti i martedì. Tutti. Every Tuesday, there is the Turbo Star Rendezvous, live on Twitch. In replica, disponibile su YouTube il giovedì. Grazie per me. il video a thursday, a youtube. Voila dottor Ferbus! Sei arrivato giusto in tempo. Ho appena terminato l'ultimo carico qua. Buonasera e ben riletto e ben ritornato in live, carissimo. Ah, ho capito. Ebbè, l'importante è che il lavoro è la prima cosa. Poi diciamo che tutto il resto... Ancora in ritardo qua. Il resto poi si può anche tralasciare. Beh, arrivato a questo punto ti conviene fare la live domani giornata, almeno così sei più riposato. Anche questo questo viaggio è terminato. Il nostro mitico Turbo Star ci ha dato veramente una grandissima soddisfazione, anche questa volta, nonostante abbiamo consegnata la merce ancora una volta con un po' di ritardo, ma come si dice, chi va piano va sano e va lontano. Quindi questa live termina qui. Sul canale YouTube sarà disponibile questa live in replica da giovedì. Grazie per essere stati con me. Thank you for being here in live. And ciao ciao. Thank you. Grazie a tutti. 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 a tutti.